Eh? Cosa vuoi? Allora, dopo ieri sera che avevi un attacco di square house, oggi invece la mia amatissima e bellissima moglie, perché mia moglie è veramente bella, cioè io so di avere una moglie bellissima, aveva pochi secondi fa l'alito identico a Ronald McDonald. Che cazzo avevi in stomaco? Amore, no, ieri ho cagato un dolore di stomaco, una cagarella che non finiva più. È normale che oggi sei un po' così, un po' tutta costipata, un po' di acidità nello stomaco. Sembra che hai ciucciato? Che è? Ma non lo so, mi sento gli schiaffaggi ovunque, prima c'erano cento schiaffaggi nel bagno dell'ufficio, cazzo. Bello, vi tengono compagnia, sono ascoltatori. Eh, infatti, guarda un po' te. In Italia abbiamo orticalia, qua abbiamo gli schiaffaggi. No, no, povera orticalia, dai. Comunque, comunque, sembrava avessi ciucciato uno stronzo. Esiste la cicca che ti aiuta a far venire fuori un'alito vicente. Saluta che mi è finita la memoria. Ciao.